Buca Bonansea, nel Museo della Civiltà Rurale, il Torchio, avete tanti attrezzi, ma qui avete anche tanta campagna, tanta attività agricola. Per un ragazzo giovane lavorare la campagna oggi, nel 2020, cosa significa? È una passione, un orgoglio, perché è un lavoro che arriva da generazioni, già le generazioni passate se ne occupavano e oggi con la tecnologia e l'innovazione uno cerca di stare al passo con i tempi, rispettando sempre in primis il territorio e tutto quello che ci sta attorno. È un lavoro faticoso, però che dà molta soddisfazione. Non ci sono i sabati e le domeniche, ma è un lavoro sul campo tutto il giorno, che a fine giornata ti inorgoglisce e ti fa vedere giorno dopo giorno i frutti che uno può raccoglierne. E far venire qui le scolaresche nella vostra fattoria didattica per insegnare come si viveva una volta, anche questo dà soddisfazione? Assolutamente sì, ed è un proposito che vorremmo sempre più percorrere, perché appunto il far vedere ai ragazzi, alle nuove generazioni, alle nuove eleve, quello che vuol dire avere a che fare con la natura e fare anche un po' il confronto di com'era il lavoro di una volta rispetto al lavoro di oggi. Quindi i metodi passati con l'innovazione, le nuove tecnologie di oggi e il lavoro più di macchina, diciamo.